ma io non vado dopo a tira bello ma li fai giusti 5 di pila io dopo poni? no non tiro stai kill quella merda del ma te te stai impegnando ma stai trajartando fagliela vicio stai attenti arrosso tutte perfette fuori gioco fuori gioco ma non c'era arbitro? è gol o fuori gioco? non l'ha visto fuori gioco fuori gioco ma chi te lo dice? mattio messina? no 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 carissimo amico ma quello che c'è a saldi quello che è andato in carcere quello con il denaro e cosa facevai? la stavi uccidendo la stavi uccidendo non ti piaceva come ha tirato la palla? ma devi fare un passaggio ma doveva tirare di esterno no era un passaggio no bro stai a tirare di esterno a me si chiama il pittore che ha fatto l'urlo van gogh munk munk eh ma devo tirare io devo tirare io? basta basta metta metta occhio no no e quindi è giallo ma come è giallo? è vero questo clip è bello ok dai facemi la palla Marti oh vale chiunque chi è il numero 9 il Milan? girù te l'avevi preparata da tre giorni ma porca troia che gol che gol chi è l'autore di kernika? picasso eh vabbè vabbè due dove sono noti i beatles in america london regno unito la chiude? no chi ha vinto lo scudetto? quest'anno lapoli mancino oh Jeff Bezos io ho tirato una volta dai a Roma no ah no prendo in terra oh bello era valido cosa è cromassia? no manu di dio è rigore raga è rigore? è però è rigore certo come è rigore? la presa di mano la presa di mano la presa di mano la presa di mano sbaglialo si non la tira fuori non la tira fuori non la tira fuori non la tira fuori dai che la sbagli ah dai oh è di là hai volto il cazzo questo è il tiro alla questo è il tiro questo è il tiro tiro alla alla rosso tiro alla rossa ma che cazzo? perfetto che cazzo? che cazzo?